All'inizio il movimento va reso preciso, non è sufficiente ripetere per così dire a vuoto un movimento, ma farlo in maniera sufficientemente corretta e che il movimento venga compreso in profondità. Quindi estremamente rilassato, più preciso possibile, più comodo possibile, al di là del movimento che stiamo andando ad allenare. Una volta creata l'abitudine, il rilassamento è la sufficiente precisione, possiamo iniziare a metterci la forza, sempre rilassato, iniziamo a mettere la forza elastica, non la forza rigida. Preciso e forza.